In questo tutorial vi mostrerò come raggiungere una videoconferenza tramite il cellulare direttamente mettendo il nickname della stanza corrispondente. Per prima cosa clicchiamo sull'applicazione Meet, vi si apparirà questa schermata, sceglierete di cliccare su codice riunione, il nickname da inserire sarà composto da prof più il cognome del docente, in questo caso il mio cognome, ricordate di scriverlo tutto in minuscolo, tutto attaccato, senza accenti, senza apostrofo e cliccare su partecipa riunione. Grazie a tutti.